In questo dramma infinito che chiamiamo vita, ognuno di noi ha una parte da interpretare. A qualcuno viene assegnata una parte romantica, altri interpretano quella della vittima, e a pochi sono riservate le parti comiche. E poi ci sono quelli che finiscono per recitare la parte del buono. Soprattutto se credono che il cattivo abiti dall'altra parte della strada.